Eccoci qui al BB di Skodiner con R9 The Club, io sono Antonio Bach e io vi aspetto qui oggi. BB di Skodiner, mi raccomando uscite all'autostrada perché oggi poi fa un freddo ragazzi, fa un freddo boia. Faceva freddo anche ieri ma ci siamo divertiti al 100 lire. Mi raccomando BB di Skodiner, questa sera R9 The Club, siamo in diretta da qui. Ciao a tra poco. In diretta radiofonica sulle frequenze di Radio R9, siamo al BB di Skodiner anche questo sabato. Ciao Emiliano! Ciao, buonasera a te Antonio e buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio R9 The New Radio. Come sei serioso? Io immaginavo dopo Ciao Emiliano mi dicessi Ciao Guerriero, invece no. Mancano gli occhialini, gli occhialini quelli simili al buon... Cosa fa oggi Guerriero, sempre in giro ovviamente per la sua serata? Guerriero questa sera fa una cosa strana, si mette un paio di mutande, cosa che di solito non mette e sta per arrivare qui al BB di Skodiner. Vedi, così mi piace Emiliano, non è quello serioso, dai! Allora, sta passando anche un altro protagonista, eccolo qui, mamma mia che bello! Allora, raccontiamo un po' questa serata, è soltanto iniziata adesso diciamo, è appena iniziata, sono due sale, la sala Urban e la sala disco, dove siamo adesso noi a trasmettere qui. Mi raccomando se siete in macchina raggiungeteci perché oggi la serata è a quanto pare una figata. Sì, la sala Urban è già partita da un bel po', quindi è già un'oretta che gli amanti della musica Urban e latinoamericani pop si stanno scatenando in pista, la sala Club, Big Club, si sta riempendo, gli amici con i tavoli, champagne, eccetera, stanno arrivando e quindi vi aspettiamo qui al BB di Skodiner, bella gente, bella musica e sempre in diretta su Radio R9. Emiliano Ferraguti, BB di Skodiner, Antonio Bach, R9 The Club, a tra poco! Ciao! La radiofonica sulle frequenze di Radio R9, sempre dal BB di Skodiner, allora grazie per la linea, perché anche il nostro staff questa sera si è spostato, siamo un po' al BB, un po' anche a Rosetto, nel The Club, il nuovo, nuovo The Club, c'è anche Anna! Ciao Anna! Allora, abbiamo anche la video, grazie per Jessica per il video, ciao! Allora, io continuo a camminare finché non trovo qualcuno veramente da intervistare quest'oggi. Allora, piano piano, piano piano, vi racconto, questa è la seconda sala, la sala un po' più grande, dove c'è Urban Disco. Vediamo qua, vediamo qua, vediamo qua, vediamo qua, vediamo qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua! Ciao! Ciao, buonasera! Come state? Oh Dì, bene! Come ti chiami? Alessandra E te invece? Donatella Lo facciamo un saluto alla videocamera di là? Come mai oggi è il BB? Perché è riaperto oggi, quindi volevamo vedere com'era. Siete venuti qui al Capodanno? No, no, no. È stato veramente molto bello. Poi c'è anche adesso il sabato 6 febbraio, dove abbiamo anche Indietro Tutta, va bene? Allora, siete tutti quanti qui con una family? Sì, alla scuola Planet Dance 2000. Oggi mi potete insegnare qualcosa che io sono negato, te ballo? Se vuoi. Dai, vieni qui, vieni qui, insegnami qualcosa, vai. Sto cercando qualcuno che mi possa insegnare qualcosa, qualche passo. Dai, allora. Vediamo, eh, ci provo. Ballo, eh, ci provo. Allora, fatemi vedere come si fa. Dai, fai un attimo, poi io riprovo. Ok, vai. Provo, eh. Sto provando a ballare in diretta radiofonica. Bene, sì, ok. Primo passo di là, un passo di qua. Ma te sei bravissima. Lei è brava, io no. Anche lei mi sa che è brava. Allora, ripetetemi i vostri nomi. Alessandra. Cosa? I vostri nomi? Coratella. Allora, vogliamo fare un saluto in diretta su Radio Renove? Che dico? E chi saluto? Saluto tutta il Renove dalla Planet Dance 2000. Allora, venite a fare un'intervista da noi qualche volta. Eh, c'è stata già. Ah, beh, allora. Grazie. No, grazie. Grazie mille. Buona serata. Grazie. Allora, Jessica, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Facciamo un getto ancora di qua. Allora, allora, allora. Posso? Come state? Come ti chiami? Ilenia. Te come ti chiami? Greta. Siete stanche? Siete stanche? No, siamo arrivati adesso, quindi non siamo stanche. Sicura? No, v'ho visto qui a guardare, ho detto, oh, forse sono stanche. Magari non gli rompo le balle. No, diciamo che non ci piace la salsa, aspettiamo... Aspettiamo altro, giusto. Ascolta, ma come mai oggi è il BB? Eh? Come mai oggi è il BB? Perché ci piace tantissimo, oggi è aria aperta, evento straordinario. Spero, oggi è la riapertura. Va bene. Scusatemi, io vado tranquillo. Anche perché dove passo io di solito si allontanano, vedi? Già mi scappano le avversone. Allora, ragazzi, noi siamo al BB Disco Dinner, io sono Antonio Bach, questa è R9 The Club. Questa è la sala Urban. Ci spostiamo fra un po' con le prossime interviste anche nella sala di là, dove è la sala B-side, diciamo, la sala con la musica disco. Salutiamo anche loro. Ciao. Come stai? Bene. Molto bene. Vuoi fare un saluto lì? La telecamera? Come ti chiami? Barbara. Barbara, buona serata. A tra poco. Ciao. Diamo adesso la linea al The Club Roseto. A tra poco. Inizia la festa qui al BB. Abbiamo Anna. Ciao Anna, come stai? Ciao, bene, grazie. Anna, appena arrivato, eri irraggiungibile. Sai quelle dive, tipo? Cioè, quelle che camminano. Certo non avevo sentito niente. Ho detto, appena arrivato io, te facevi un po' la diva. Ma non è vero, cioè, stavo soltanto correndo. Ora, non è perché sei Anna Mocano del programma radiofonico, facciamo l'amore e puoi fare... No, no, io sono sempre me stessa. Quindi, no, non me la tiro, cammino normale. Assolutamente no. Non ho modo di camminare. Piuttosto tu sei arrivato e neanche mi hai salutato. L'ho vista passare tipo, ah no! Un treno, no, a parte gli scherzi. Stai lavorando qui oggi al BB, immagino, quindi, hai un bel po' da fare. Bene, sì, lavoro come te, solo che io sudo un po' più di te. Lo so. Allora, oggi è la serata, diciamo, un po' in, perché si riapre dopo il capodanno. Come ti sembra la serata? Te che sei lo staff? Ma, per me è abbastanza bene. Vedo la gente che si diverte, noi ci divertiamo. Insomma, raggiungeteci al BB. C'è pure il poeta Marinelli. Vabbè, dopo ti passano certi soggetti. Grazie mille. Buon lavoro! Allora, scusate ragazzi, scusate. Vieni, vieni qui, vieni qui. Andiamo più avanti con la telecamera. Vieni, vieni, vieni. Spulciamo un po'. Ciao! Come stai? Vieni, guarda, guarda. Semplice. Ti chiedo come ti chiami. Guarda, tanto sei già col video. Come ti chiami? No, grazie. No, grazie. Di cognome? Prego. No, grazie, prego, di cognome. Niente, si la tirano. Si la tirano un pochettino. Guarda, guarda, andiamo di qua. Andiamo di qua. Posso? Scappano tutti. Come vi chiamate? Gianpaolo. Gianpaolo. Francesco. Lei come si chiama che scappa? Giulia. Giulia. Come mai oggi qui al BB? Abbiamo fatto una trasferta qui all'Altamare perché questo locale ci piace. Ma trasferta perché? Dove siete? Dove abitate? No, siamo di Pescara. Anche io non sono di Pescara, però... Wow, quindi da Pescara fino al BB? Sì. Che bello questa cosa. È una bella cosa, veramente. Anche per cambiare un po', poi è un bel locale. Per la gente, è bello. Allora, oggi poi è la serata, diciamo, che si riparte un po', visto che si è fermata un po' questa serata, onestamente, però oggi si riparte la grande con due sale. Voi preferite la sala disco? Sì, anche la sala alla chino non è niente male, insomma. Due sale belle, grandi, accoglienti. Siete arrivati adesso? Poco fa. Va bene, dai. Io vi lascio la vostra serata. Salutatemela perché... Eh, timida, timida. Grazie. Ciao, sono il nome, come ti chiami? Giulia. Giulia, anche Giulia sul Radio R9. Da Pescara, ragazzi, da Pescara. Allora, ci fermiamo qui. Vi diamo la linea di nuovo al The Club di Rossetto. Noi torniamo fra poco con R9 The Club. Antonio Bach, qui dal BB Disco Dinner. Amici Capitano America, Max Monti presenti. Vi racconto un po'. Questa è la serata, un po' a disco. Ci avviciniamo adesso a quella Urban. Piano piano, ragazzi, tanti amici questa notte. Tanti, tantissimi amici. Allora, allora. Piano, piano, che se no veramente succede. C'è una bolgia, ragazzi. Questo è veramente molto, molto positivo. Mi sto avvicinando a quella che è la serata Urban. Infatti c'è un cambio di genere non indifferente. Molta gente anche oggi. Tutto bene, Brandi Marte? Ciao a tutti. Allora, mi avvicino la console. Voglio andare a intervistare Tony Iacoponi. Vediamo se ci riesco, eh. Piano piano ho anche la videocamera dietro. Jessica. Cammino, cammino, cammino. Come state voi all'ascolto, ragazzi? Allora, mi avvicino Tony, mi avvicino. Quanta bella gente. Facciamo vedere quanta bella gente che c'è qui al BB. Come stai, Tony? Dopo? Sta mixando. Sta mixando. Torniamo fra un po', torniamo. Tony ovviamente ha da fare. Guarda loro. Vuoi andare anche a rompere un po' le balle. Alla gente qui che balla, però... Vediamo un po' il privé, il privé. Col privé ci proviamo. Ciao! Come state? Parlo con lei. Parlo con lei? Te come ti chiami? Tamar. Sto a posto? Sì. Dai, non tiratevela, non tiratevela. Voglio sapere solo i vostri nomi. I nomi, il nome. 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 Il tuo nome. Inis. Inis. Il tuo nome? Lucia. Lucia. Abbiamo anche? Mariangela. Come sta andando la serata? Bene, bene. Bene, vi stai divertendo? Tanto. Sedute? Siete sedute? Ci riposiamo un po'. Ce ne sta anche. Dai, dai, che la serata è lunga. Grazie. Buona serata. Allora, vediamo se lei riesce a ballare. Sta a posto? Cercavo qualcuno? Cercavo qualcuno mi potesse insegnare un passo. Beh, io proprio zero. Te come ti chiami? Katia. Puoi salutare la videocamera? Quindi non riesce a insegnarmi un passo? No. Eh, ma lui, solo lui può ballare così. Sono in mezzo alla pista, ragazzi, con l'animazione R9 The Club. Diamo adesso lo spazio anche al The Club. A Rosseto. A tra poco con le prossime interviste Antonio Bach, R9 The Club. Ma lui, solo suonci. 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 Oye, 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 oye. Oye, abre tus ojos. Mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la figa. Abre tus ojos. Mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la... La, 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 la.